Gratteri, contro le mafie dobbiamo assumere degli hacker. Mentre la politica discute di utilità o meno delle intercettazioni, le mafie sono già in grado di comprarsi degli hacker e crearsi nuovi sistemi di comunicazione sopra le nostre teste, che noi non ascoltiamo, comprano telefoni che utilizzano per sei mesi e parlano in chiaro da una parte all'altra dell'oceano e noi siamo riusciti a bucare nessuno di questi sistemi. Lo dice Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, intervenendo alla presentazione del rapporto Le mafie nell'era digitale, stilato dalla Fondazione Magna Grecia e presentato nella sala stampa della Camera. L'Italia ha i migliori investigatori del mondo. L'Italia non era seconda a nessuno, ma ora, ha spiegato Gratteri, stiamo perdendo e negli ultimi decenni chi ha governato non ha investito in tecnologia, pensando non fosse importante. Oggi, invece, dobbiamo coprire questo gap e finirla di arruolare nei servizi segreti solo il poliziotto e il maresciallo. Dobbiamo assumere hacker, altrimenti non riusciremo a essere competitivi con le migliori polizie del mondo. È un tema che va affrontato adesso, ha aggiunto. Questo studio è l'attualità. Sarebbe stato in ritardo se fosse uscito tra cinque anni. Oggi siamo sul pezzo, ma tra cinque anni può diventare archeologia. Nel mondo dell'informatica, ha anche fatto sapere, in questo momento i più bravi sono gli israeliani. C'è una legislazione più a maglie larghe che consente sperimentazioni di tecnologia. Bisogna spendere soldi. Ad esempio, noi abbiamo in Italia l'aereo spaziale, che è molto evoluto. Abbiamo Leonardo, soprattutto sul piano militare. La sicurezza dello Stato non possiamo lasciarla agli altri o alla fortuna. Non è possibile continuare a pensare che chi chiama un collega francese o tedesco che mi dà 3-4 tir di file, che io devo decriptare, quando poi il fatto è già accaduto e il carico di cocaina o armi è già arrivato da Gioia Tauro ad Amsterdam o Anversa. Io vorrei che l'Italia fosse all'avanguardia, come è stata sempre, e che ci si togliesse questa paranoia che in Italia siamo tutti intercettati. Spero, il suo appello in conclusione, che nel breve periodo si voglia investire sul piano tecnologico della nostra Polizia Giudiziaria.